In questo video voglio farti vedere alcune operazioni che si possono fare almeno che io solitamente faccio quando sto classificando una nuvola di punti all'interno del software LIDAR 360 e sono ancora al primo step che poi però è uno step abbastanza importante che è quello della classificazione del ground, i punti relativi al terreno. Questa è una nuvola di punti da aerofotogrammetria di un tratto urbano e quello che vorrei fare è intanto provare a estrarre i punti del terreno sulla base dei filtri di classificazione della nuvola di punti di LIDAR 360. Devo andare qui, classify, classify ground point. Prima ti faccio vedere che se vado qua su classe i punti non sono classificati quindi display by classification, quindi se gli dico ok tutti i punti sono bianchi, sono unclassified oppure possono essere never classified, io ho fatto qualche pastrugno su questa nuvola di punti per cui ora sono unclassified, se lo fai tu per la prima volta probabilmente saranno never classified ma è la stessa cosa. Quindi ritorno sulla visualizzazione RGB e dico al software di lanciare la classificazione dei punti del terreno. Punti del terreno, ci sono questi settings, questi parametri su cui puoi intervenire, max building sites, quindi la massima dimensione degli edifici, max terrain angle, massimo angolo del terreno, quindi qual è la pendenza massima del terreno, angolo di interazione, distanza di interazione e poi ci sono due box su cui puoi mettere la spunta oppure no. Starò abbastanza sui parametri di default, cambierò però una cosa che è il max building sites e come faccio a sapere qual è il max building sites? Lo posso misurare, posso misurarlo utilizzando gli strumenti di misura che mi dà l'IDAR 360, mi metto nella vista 2D perché il software preferisce avere la dimensione planimetrica, la massima dimensione planimetrica degli edifici, attivo lo strumento legato alla misura che in questo momento mi è un attimo scappato, che è questo, e lancio, non era questo, dove è lo strumento di misura? Ok, mi sto perdendo Ah no, questo è lo strumento di misura delle distanze, delle, eccolo qua, length measure, ho proprio sbagliato, ho rimpicciolito lo schermo per poterlo fare vedere meglio, mi sono perso lo strumento di misura. 24 a 116, ok, esco dallo strumento di misura e vado di nuovo nel classify, quindi sblocco la vista 2D, ritorno nella vista 3D, classify, classify ground point, qua posso mettere 25, max terrain angle, lascio di default 88, per il resto tolgo la spunta da questo valore stop triangulation when edge length è minore di 1, in questo caso se ci porti sopra il puntatore e lasci fermo il mouse, lui ti dice che questa opzione è un'opzione che ti permette di filtrare un po' i punti del ground, se la togli lui cercherà di tirarti fuori, di darti tutti i punti del ground possibili sulla base della nuvola di punti originale e sulla base poi delle interazioni e del calcolo dell'algoritmo che ha fatto. Togliamo questa spunta, lanciamo l'algoritmo, dipende da quanto è complessa la nuvola di punti, dipende dai parametri che hai utilizzato, dipende da alcune cose, anche credo dalla tipologia di nuvola di punti, questa è una nuvola di punti fotogrammetrica, una nuvola di punti laser scanner forse permette di fare a parità di estensione, a parità di caratteristiche del terreno, permette di fare una classificazione, di lavorare, permette all'algoritmo di lavorare un po' più velocemente, in questo caso ci sta mettendo un pochino, però siamo nei tempi, considera che nuvole di punti abbastanza grandi possono impiegare anche ore, questo algoritmo potrebbe impiegare anche ore affinché possa dare un risultato, quindi un consiglio che mi sento di darti è, se hai una nuvola molto complessa, prova a lavorare su una parte di nuvola per vedere, che sia caratteristica che abbia dentro tutti gli elementi poi della nuvola generale, per vedere se il filtro lavora bene in modo tale da fare dei cambi di parametri, e non dover aspettare ore per poter poi cambiare dei parametri e quindi rilanciare un'elaborazione, alla fine del processo lui mi fa vedere le classi del terreno, no, del terreno, le classi su cui, che ha tirato fuori, le classi che ora fanno parte del progetto di leader 360 che sono associate a ciascun punto della nuvola di punti. Qui c'è una leggenda, mi dice che in bianco sono rimaste le parti mai classificate, in arancione c'è il terreno, quindi posso scegliere di vedere una o l'altra classe andando qui display by classification e togliere la spunta su quello che non voglio vedere, per cui se io non voglio vedere i punti mai classificati, li tolgo alla spunta e lui mi fa vedere esclusivamente il terreno. Viceversa, se voglio vedere soltanto i punti mai classificati, quello che è rimasto, tolgo la spunta sul terreno e lui mi fa vedere soltanto il bianco. Ora, considerando il tipo di nuvola di punti, che è una nuvola di punti di nuovo fotogrammetrica, quindi la fotogrammetria è un processo passivo, si riesce a ricreare soltanto quello che si vede dalle immagini, direi che tutto sommato il lavoro di estrazione dei punti del terreno è stato fatto molto bene. C'è ancora qualche cosa che secondo me è rimasta fuori e qualcosa che possiamo pulire, almeno io generalmente la pulisco quando voglio poi uscire magari da altre parti, voglio portare questi punti da altre parti per fare altre elaborazioni. Allora, una cosa che noto è che in questa zona qui c'è un buco, è come se ci fosse stata una frana. Andiamo un attimo sulla rappresentazione RGB. Questo è legato a questa caratteristica della nuvola di punti, al fatto che qui non ci siano punti, al fatto che ci sia questa sorta di... scusa... ora ce la faccio a mettermi bene, di rampa d'accesso ai box, quindi c'è un muro verticale. La verticalità è una cosa che viene un po' sofferta da leader 360, in realtà viene sofferta dai software che gestiscono il numero di punti perché non riescono bene a capire se si tratta di edificio o se si tratta di terreno. In questo caso è edificio, è terreno? Non lo so, lui comunque ha fatto un po' di fatica e quindi qua punti che erano del terreno me li ha tirati fuori, quindi non me li ha classificati come terreno. E la stessa cosa succede qua, addirittura qui proprio punti non ne ho, quindi qui ho un buco di punti perché il sensore fotografico era in corrispondenza del centro strada e quindi qui proprio non ci è riuscito ad arrivare. Infatti se ti faccio vedere la classificazione del terreno qua, vedi che qua proprio ci manca un pezzo legato alla parte di marciapiede. Si può intervenire? Si può intervenire in un modo che è tutto sommato abbastanza veloce e è anche abbastanza intuitivo. Allora io gli dico al software di farmi vedere tutte e due le classi del terreno, in questo caso io ne ho soltanto due, e poi gli dico di lancio la classificazione per Classify Ground by Selected. In questo caso io riesco a classificare punti del terreno, cioè a dire al software quali punti della nulla di punti saranno terreno sulla base di una selezione. All'interno di questa selezione poi il software mi dà la possibilità di applicare o no degli algoritmi che mi permettono di raffinare questa selezione. Ora ti faccio vedere il processo proprio più base. Seleziono i punti e gli applico una classe. Quindi Classify Ground by Selected. Ti si apple questa finestra dove ci sono queste opzioni, selezioni poligonale, rettangolare, circolare. Ora una cosa che spero facciano i ragazzi di leader 360 di GVI è di cambiare questa etichetta perché vedi che se lasci questa etichetta, se lasci fermo il mouse lui ti dovrebbe dire che cosa fa, ma è una scritta grigia su label grigio e praticamente non si vede niente. Comunque quello che voglio fare io adesso è selezionare abbastanza brutalmente e anche molto velocemente questi punti che non sono mai stati classificati e dirgli a software di farli diventare terreno. Come faccio? Utilizzo una selezione poligonale. Inizio con la selezione. Davvero faccio una cosa abbastanza veloce. State qua a scegliere se vuoi tenere dentro il marciapiede, che scelte vuoi fare sul marciapiede, o meglio sullo scalino del marciapiede. Il marciapiede e la superficie io la lascio come terreno, ma lo scalino potrebbe non essere terreno oppure sì. Quindi se la vuoi dare come terreno la includi oppure la escludi. Ora io la escludo, credo che la scelta migliore sia quella di includerla. Quando hai finito la selezione fai doppio clic, ti viene visualizzata in magenta la selezione e qui hai la possibilità di assegnare a questi punti una classe. Ti si apre questa finestra e lui ti chiede, ok, da quale classe, quali sono i punti in termini di classe che vuoi trattare, che io gli cambi la classe. Se tu avessi qui dentro più classi potresti selezionarne una soltanto o più di una classe. Dove le vuoi portare in termini di classe? Al terreno. Scegli un attributo. Ora se tu scegli none, nessuno, è quello che faccio io. Tutti i punti che sono stati selezionati vengono trasformati in ground. Chiaramente i punti che sono già ground non vengono toccati da questo processo. Altrimenti hai la possibilità di lavorare all'interno di questa selezione sulla base di valori di elevazione assoluta, intensità, tempo, angolo, ritorno. Elevazione assoluta potrebbe essere interessante se tu avessi una selezione dove per qualche motivo ci sono anche delle piante. Tu puoi dirgli di mettere un filtro al valore minimo, al valore massimo dei punti che il software ti deve prendere per trasformarti in terreno. In questo caso ti potrebbe molto probabilmente lasciare fuori le piante. Io gli dico none, in questo caso lui se ne frega di ogni filtro, tutti i punti che sono qui dentro me li fa diventare ground. Lancio il processo e tutti i punti che erano bianchi qui dentro ora sono diventati arancioni. Posso fare la stessa cosa per questi punti qua. Magari posso dare un'occhiata a che cosa è successo qui. Quindi passo alla visuale RGB. Anche questi sono punti del terreno. Quindi proviamo a vedere se riesco a fare un'unica selezione. Credo di no perché c'è una recensione in mezzo. Va bene, facciamo due. Allora faccio di nuovo la selezione poligonale. Di nuovo vado... Non ce la faremo. Quindi selezione poligonale. Ok. Seleziono i punti di questa fascia. Gli attribuisco di nuovo la classe ground. E poi vado a prendere quelle cose che sono qui dentro. Stando attento a non prendere il tetto. Vabbè, faccio una cosa abbastanza veloce. È chiaro che l'editing delle nuvole di punti richiede pazienza. Quindi richiede che... Richiede lavorare abbastanza... Con molta attenzione su quello che stai selezionando e con molta cura per poter fare delle selezioni efficaci o meglio per ottenere poi risultati efficaci. Qui probabilmente ho messo dentro delle cose che non c'entravano. Infatti ho messo dentro questo muretto. Vabbè, comunque il concetto è questo. Hai la possibilità di intervenire manualmente sui punti della nuvola per cambiare la loro caratteristica da quello che il software ti ha classificato o quello che è la classificazione originale al terreno. Quando hai finito chiudi il comando. Lui ti dice Vuoi uscire dal classify ground by select? Gli dico di sì e vado a vedere soltanto il ground. Direi che più o meno ci siamo o meglio, secondo la mia sensibilità questo dato è un dato che tutto sommato mi va bene. Ci sono alcune cose che io faccio quando voglio trattare i punti del terreno e sono quelle di eventualmente lavorare su il rumore che può esserci. Vedi che comunque se io mi sposto in maniera quindi mi metto una vista laterale ci sono dei punti eccoli qua vedi che questi punti tutto sommato sono sopra il profilo stradale e sotto il profilo stradale probabilmente questi punti sono punti legati a dei processi di errore che sono intervenuti quando il software ha lavorato su ha applicato il filtro per la classificazione del terreno. Cosa posso fare? E faccio la cosa faccio la cosa contraria quindi volendo credo che si possa fare non lo so ah no ok facciamo questo tentativo non sono sicuro lo facciamo insieme classify ground by selected faccio una selezione quindi magari facciamo una selezione sempre poligonale di questi punti che voglio togliere vediamo che cosa succede lui mi dice from ground ok quindi posso fare una classificazione anche inversa quindi io prendo questi punti che lui mi ha classificato come ground dal ground li porto a unclassified e quindi gli dico ok questi punti me li ha tolti dalla visualizzazione perché in questo caso io gli ho fatto vedere soltanto gli ho chiesto di vedere soltanto la classificazione dei punti del terreno quindi avendo tolto questi punti la classificazione del terreno lui non me li fa più vedere posso andare avanti e provare a mettermi nelle viste che mi permettono di selezionare in maniera efficace questi punti ora di nuovo sto facendo una cosa molto veloce e portarli poi ad essere punti del terreno classify da ground quindi non unclassified a unclassified e questi punti me li toglie a questo punto a mano a mano che io lavoro posso farlo anche volendo se per qualche motivo mi interessa soltanto l'asse stradale o la zona si potrei fare la zona di la zona carrabile per qualsiasi motivo posso fare una selezione un po' veloce e un po' brutale e vado a selezionare tutto quello che non è strada adesso ho vanificato quello che ho fatto prima però mi serviva per farti vedere quello che era la potenzialità del filtro se vado avanti con la selezione vediamo se riesco a fare una aggiungere selezioni quindi se hai delle aree che lo sto un po' scoprendo anch'io questo filtro se hai delle aree che in realtà sono distanti una dall'altra e quindi hai necessità di fare delle selezioni diverse poi comunque hai sempre attivo il filtro e quindi diciamo hai sempre attivo lo strumento di aggiungere la selezione corrente ho fatto questo per esempio qua potrei prendere dentro questa zona che mi era un po' scappata ho fatto questo attivo il comando sbagliato attivo il comando di cambio della classificazione da punti del terreno a punti mai classificati e a questo punto mi è rimasto soltanto il terreno che è il terreno che serve a me in questo caso che è il terreno del manto stradale questo è un processo volendo si possono ancora ripulire un po' si possono ancora ripulire un po' di punti che sono vedi che diciamo che c'è ancora un po' di rumore c'è un'opzione per farlo eventualmente se ti interessa portare questi punti fuori hai finito la classificazione del terreno e vuoi andare da un'altra parte oppure stare sempre dentro leader360 ma trattare soltanto questi punti quello che puoi fare è data management extract extract by class ti dice qual è la nuvola di punti che vuoi selezionare la nuvola di punti è questa e quali sono i punti che vuoi estrarre in questo caso voglio estrarre soltanto i punti del terreno dove vuoi mettere questi punti scegli la cartella di destinazione puoi cambiare anche il nome del file la idata lui estrae i dati aggiungili al progetto si ti ha creato una nuvola di punti che è costituita esclusivamente dai punti del terreno tant'è che se io gli chiedo la visualizzazione rgb ora io vedo i punti colorati come il loro colore originale colorazione rgb da qui se vuoi puoi applicare poi degli altri filtri puoi applicare un filtro di riduzione del rumore filtro di riduzione degli outlier e quello che succederà probabilmente è che i vari elementi di sporco i vari elementi i vari punti che forse non appartengono proprio al terreno vengono rimossi e ti rimane una nuvola adesso ti sto facendo ubriacare con queste modifiche e queste rotazioni della nuvola la nuvola rimarrà effettivamente costituita dai punti che sono i punti del terreno ora forse mi sono un po' incartato in questo video però la cosa che mi premeva a farti vedere è che a partire dalla classificazione del ground ci sono una serie di opzioni che tu puoi attivare una serie di altri filtri che puoi attivare dentro l'IDAR 360 che ti permettono davvero di raffinare la classificazione e di avere in output la nuvola di punti migliore da un punto di vista della classe dei punti per tutte le varie elaborazioni successive parte tutto quanto dal ground ma poi ci sono tutta un'altra serie di filtri hai visto che il menu classify è veramente vasto spero di poterne vedere insieme a te altri che sono molto efficaci magari ancora su questa nuvola poi passando ad altre nuvole magari anche da scansione laser però lo strumento di classificazione è un po' il cuore di l'IDAR 360 e vale veramente la pena dedicarci un po' di attenzione perché sono strumenti che ti permettono poi di efficientare molto tutto il flusso di lavoro che farai su questa nuvola di punti se ti va di connetterti di arrivare di raggiungermi online ci sono due modi 3dmetrica.it o il canale telegram telegram.me 3dmetrica il primo è un blog è anche un hub per tutti gli altri canali e le piattaforme dove condivido contenuti l'altro è un canale telegram molto informale ci condivido un po' di altre cose tutte le cose che pubblico sulle altre piattaforme e un po' di cose informali di dietro le quinte altrimenti se pensi che questi video siano utili se pensi che possa valere la pena sostenermi supportarmi puoi diventare un finanziatore di 3dmetrica 3dmetrica.it slash support e lì accedi hai un po' di informazioni per accedere a una piattaforma di crowdfunding e salire a bordo della barca del progetto di 3dmetrica con il tuo supporto ti ringrazio per aver visto questo video ti do l'appuntamento al prossimo ti saluto fortissimo ciao da Paolo cordeghini